Franco Giudici sta per chiudersi un altro anno, un anno difficile per le dirizie, più volte voi come sindacati avete lanciato l'allarme che purtroppo la crisi è galoppante, ma al momento attuale purtroppo non è caduto nulla, anzi è una crisi che aumenta. Si aumenta soprattutto nel nostro territorio, non solo la crisi non si attenua, ma nell'ultimo periodo abbiamo perso ancora posci di lavoro, si sono persi in provincia di Caltanissetta 500 posci di lavoro nell'ultimo semestre, noi lo vediamo tramite le liquidazioni che si fanno in Cassedile. Per cui se la politica in questo territorio non riesce a capire cosa vuole fare per svilupparlo e cercare di implementare le gare d'appalto che sono scese in modo spaventoso, visto che la regione Sicilia e il governo nazionale ci hanno messo a disposizione i fondi della comunità europea, se non riusciamo a sbloccare questo nel giro di poco tempo il nostro territorio diventerà un vero e proprio deserto. Voi avete definito il vostro settore, quello dell'edilizia, una vera e propria barca che sta galleggiando ma che purtroppo sta andando alla deriva. Eh sì, l'abbiamo definito proprio così perché è così, perché se voi fate un giro in città o nel territorio non si vede più un gandiere edile, non si vede più un'opera, non c'è più nulla, vediamo solo la disperazione delle famiglie che non riescono più ad arrivare non solo alla fine del mese ma nemmeno ad iniziare la settimana, non riescono a fare fronte a quelli che sono i bisogni e le necessità per la propria famiglia, per i propri figli, per cui c'è una vera e propria disperazione. E quali sono le prospettive per l'anno nuovo? Le prospettive potrebbero essere buone, però ci vuole proprio volontà e le prospettive sono quelle che alla raffineria iniziano e avvieno i processi di bonifica, l'impianto nuovo che si deve fare, la biorraffineria e tutto quello che è previsto nel protocollo di indesa siglato nel 2014. Poi per quanto riguarda le altre cose, lo dicevo poc'anzi, ci vuole una vera e propria forza di volontà nell'avviare le opere, di guardare i progetti perché i soldi, i fondi ci sono, non riesco a capire perché si preferisce lasciare collassare una città e non avviare immediatamente le opere pubbliche. Grazie!